Luzio D'Arma Revisore Sono nato nel giugno del 1972, in un comune del Trevigiano. Negli anni Ottanta, che per me sarebbero stati gli anni della scelta lavorativa, dalle mie parti i mestieri legati all'agricoltura erano snobbati dai ragazzi. I contadini erano derisi come se lavorare la terra fosse meno degno, meno nobile di un qualunque altro lavoro. E quindi io, pur arrivando da due famiglie contadine da generazioni, scelgo un'altra strada. Un pezzo di vita passato per i campi dei nonni a cogliere da piante e da ortaggi quello che quella stagione mi offriva o a godere tantissimo nell'immergere i piedi nudi nel fango di una pozzangra creata da un tubo dell'irrigazione che accidentalmente perdeva. Io non so se siano stati quei lunghi momenti a contatto con la natura, con la terra, a creare dentro di me quell'intimità e quel rispetto per l'elemento terra o l'apprendere con l'arrivo dell'età adulta che anche in tante altre parti del mondo chi coltiva la terra è deriso, sfruttato, spesse volte anche oppresso. Il fatto sta che a 40 anni sento forte questo richiamo e faccio ritorno alla terra. Nel 2014 infatti fondo col mio migliore amico e socio Forever Bambù, con lo scopo di creare foreste di bambù gigante in Italia, partendo da terreni abbandonati, ne esistono 4 milioni di ettari in Italia, o da terreni esausti dall'agricoltura industriale. Quel tipo di agricoltura o quell'accezione di metodo agricolo in grado di rovinare eliminando la sostanza organica del terreno. Tutto per noi è partito dalla terra, dal desiderio di ripristinare qualche cosa, l'integrità, che da qualche d'un altro era stata rovinata. A 40 anni, e con la nascita delle nostre figlie, abbiamo sentito nascere dentro forte il desiderio, forse più la necessità, di fare qualcosa che incidesse nelle nostre vite di padri. Ci siamo sentiti responsabili per loro di migliorare questo angolo di mondo che è l'Italia. Durante questi 9 anni di vita, nel quale abbiamo realizzato 2 milioni e mezzo di metri quadrati di foreste, questa attività mi ha fortemente lavorato dentro, facendomi incontrare e scontrare col mondo agricolo, con quello scientifico, con quello industriale. L'ultimo motivo di queste accese interazioni è il bias cognitivo evidenziato da Harvey Locke a proposito della sostenibilità. Ad oggi, l'immagine più utilizzata per esprimere questo concetto è quella che vedete alle mie spalle, tre cerchi che si intersecano. I tre cerchi rappresentano l'ambiente e con esso la terra, la natura, poi c'è la società e poi c'è l'economia. Come a dire che questi tre cerchi sono rappresentanti di tre ambiti equivalenti per importanza? Ma non lo sono. Tutti noi, ciascuno di noi, fondamentalmente per vivere ha necessità di cibo, di acqua, di aria. Ha bisogno della terra, non di strutture economiche e sociali. Badate bene che sto parlando di necessità. Quindi perché se evidentemente l'ambiente è sovrastrutturale rispetto a società ed economia, poi non è stato così rappresentato. Perché quando hanno definito quello schema a quel tavolo, non erano presenti e non hanno chiesto a api, merli, lupi, coralli, batteri, cedri del Libano, alle migliaia di specie che noi abbiamo fatto scomparire sul pianeta, cosa ne pensassero? A quel tavolo c'erano solo uomini e finanza. A causa però di questo fraintendimento, di questo equivoco, di questa perdita di contatto con la realtà, stiamo mettendo a repentaglio la vita delle generazioni future su questo pianeta. Perché consideriamo tutto sullo stesso piano, mentre non è tutto sullo stesso piano. La terra che ci ospita, che ci dà da vivere, la terra viene tecnicamente, scientificamente ed economicamente prima. Eh ma quindi vuoi che andiamo a fare tutti i contadini, tutti i boscaioli, torniamo a vivere nelle caverne? No, non dico questo. Dico però che possiamo impegnarci a chiederci se le scelte che compiamo rispecchino questa gerarchia. Le scelte come singoli, come aziende e come espressione del mondo pubblico. E se ci facciamo delle domande, poi ci diamo delle risposte. E poi prendiamo coraggio ed agiamo di conseguenza. Per tutti, prima viene l'ambiente, la natura, il pianeta. Poi viene la società. Poi viene l'economia. Lo dico a quelli un po' più resistenti, quelli che fanno il mio mestiere, gli imprenditori, i manager, ma anche a vantaggio anche degli altri. Prima viene l'ambiente, la natura, la terra, poi la società, poi l'economia. Dal 2014 anche noi ci siamo interrogati e abbiamo deciso, con non poche difficoltà ed esitazioni, la cultura che noi facciamo era inesistente in Italia, di coltivare con metodi naturali. Metodi che rispettassero il luogo. Fin da subito io ho cercato di far passare un canone in tutti i miei soci. Oggi ne ho 1650, all'epoca erano solo sette, quando ho cominciato. Questo canone recita così. Lascia un luogo meglio di come lo hai trovato. Oggi, tra i tanti metodi abbiamo scelto e sviluppato il metodo simbiotico e coltiviamo agricoltura simbiotica. L'agricoltura simbiotica è in grado di ripristinare l'integrità e la vitalità dei suoli. Vitalità ai minimi storici. Lo fa grazie all'utilizzo di consorzi microbici, di micorrize, di zeoliti e di humus. La microbiologia dei suoli è una scienza ancora altamente sperimentale. Noi pensiamo di sapere tutto, ma sappiamo poco poco. Sotto dei piedi, sotto i nostri piedi, si dirà che abbiamo un pianeta ancora del tutto sconosciuto. Ma ciò che si è conosciuto è che esiste una simbiosi, esiste una vita comunicativa e di mutualità. Forse cose che gli esseri umani dovrebbero un po' riconquistare. Che riguarda tutti gli esseri del sottosuolo. Una fitta internet ed intranet che mette in collegamento piante, insetti, batteri, microrganismi, funghi e animali di maggiore dimensione. L'agricoltura simbiotica riesce a ripristinare questa rete invisibile, portando risultati concreti, come l'aumento della sostanza organica, ma anche la forza, il benessere delle piante e la durata e la qualità di frutti e ortaggi una volta raccolti. E quindi qualità per tutti gli esseri che se ne cibano. L'agricoltura simbiotica ha la capacità di riportare la vera biodiversità, fatta di miliardi e miliardi di esseri che popolano il sottosuolo e che ci garantiscono, garantiscono a piante, a animali e ad esseri umani la salute. Anche se non li vediamo, ci sono e dipendiamo da loro. I motivi per cui noi realizziamo foreste sono diversi. Il primo, avete capito? Ripristinare lo stato naturale dei luoghi, l'integrità dei luoghi, realizzandoci sopra qualcosa di davvero bello e fruibile da tutti. Se non avete mai passeggiato in una foresta di bambù gigante, non serve che andate in Giappone, venite nelle nostre qui in Italia. Noi, tra l'altro, non utilizzando pesticidi, non utilizzando diserbanti, spesso ci troviamo a passeggiare assieme con lepri, eccolo qua, assieme con fagiani, con libellule, con farfalle picchi che fanno il nido nelle canne più grosse. Il secondo, produrre tanta fibra dalle nostre foreste per ripristinare mercati e filiere che un tempo erano qui in Italia presenti e sono scomparsi, come la produzione della carta o la produzione del tessuto. Oppure iniziare mercati completamente nuovi. Noi siamo fortemente impegnati con il Dicma della Sapienza di Roma nel produrre bioplastiche. Pensate a una plastica 100% made in bambù, 100% made in Italy, 100% organica, 100% riciclabile, una plastica che non ha visto traccia di petrolio. Il terzo motivo, realizzare il mercato italiano del carbonio, nel quale il bambù gioca un ruolo da campione nell'assorbimento della CO2. Il bambù ha questa capacità fuori scala perché non è un albero, ma è una graminacea. Un bambusetto è molto più simile ad un prato che non ad un bosco e una canna di bambù più simile a un filo d'erba che non ad un albero. E quindi, come l'erba del prato, tu la tagli e lei cresce. Tu la tagli e lei cresce. I germogli di bambù fanno uguale. A primavera, i germogli adulti, nel primo metro, crescono tra i 5 e i 7 centimetri al giorno. Ma da lì, e fino ai 15 metri, crescono dai 27 ai 45 centimetri al giorno. Il germoglio fa 15 metri in tre mesi. E, facendo questa esplosione, assorbono tanta CO2 dell'atmosfera. Un bambusetto assorbe 36 volte la CO2 rispetto ad un bosco tradizionale. Nel fare questo mestiere è un campione. Lui assorbe più CO2 di quella che noi emettiamo nel coltivarlo. E, una volta che questa quantità è stata in surplus, è stata certificata, come abbiamo fatto noi, può essere ceduta alle aziende che emettono in Italia, tutte le aziende, ma anche tutti noi esseri umani, anche oggi, qua è pieno di CO2, purtroppo, emettiamo in Italia e possono le aziende compensare in Italia, finalmente, conseguendo l'obiettivo di essere carbon neutral. Spesso e volentieri le aziende, i nostri clienti, hanno l'azienda vicino ai nostri bambusetti. In sostanza, pulisci dove sporchi, lasci il luogo meglio di come lo hai trovato. Ve lo ricordate il canone di prima? Io vi invito tutti, lasciamo questo luogo di oggi che ci ospita, questo luogo è un terreno, lasciamolo meglio di come lo abbiamo trovato. Il bambù, quindi, è il nostro alfiere, col quale noi vogliamo affermare che la natura, l'ambiente, la terra sono prioritari e da essi possiamo trovare risposte e soluzioni a tutti i danni che in questi anni abbiamo combinato. Eh, ma il bambù è infestante. Permettimi, amico mio, di dirti che è la tua mente ad essere infestata. L'essere umano è stato in grado di inquinare, distruggere, usurpare. E' stato in grado di cementificare, di disboscare, è stato in grado di uccidere, è stato in grado di far scomparire specie sul pianeta, far migrare popolazioni intere. L'essere umano ha prosciugato laghi millenari per coltivare il cotone necessario a produrre i blue jeans. E poi sarebbe il bambù ad essere infestante. La specie più infestante del pianeta Terra è l'essere umano. Il titolo di questo mio intervento è la ricerca dell'integrità, perché l'integrità è ciò che io inseguo e cerco nella mia vita ogni giorno. E lavorando con la Terra e con i giusti metodi, io so che anche dove non c'è, si può ripristinare. E se si può ripristinare nella Terra, credimi, l'integrità si può ripristinare anche in noi, esseri umani. Grazie. 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 Grazie.